Bello, ecco le frasi, mamma a me non mi frega niente, sai quelle domande, quelle risposte che ti fanno, che ti possono far bollire il sangue fino a un certo punto? Ecco, uno di questo è questa cosa qui, a me non mi frega niente, buh, non lo so, fai te, no? Tipico risposta dell'adolescente, perché? Perché adolescenti sono nella fase di scoprire l'identità, scoprire novità, di sviluppare la loro autostima e la loro immagine di se stesso. Se c'è qualcuno che va incontro, loro hanno l'idea di perdere il senso del potere, loro amano il potere anche se non sempre sono consapevole di quello che è, ma appena che vanno in conflitto con te o si sentono che hanno perso questo potere personale, ok, ti rispondono in un modo per dire tu non hai ragione, a me non mi frega niente, di più che a loro non ne frega niente, stanno praticamente dicendo sì, a me non ne frega, ma non so come gestire la situazione.